I fattori ambientali risultano essere responsabili del 23% delle morti premature, del 24% del carico globale di malattie e del 36% dei decessi nei bambini da 0 a 14 anni. Un ambiente sano è dunque fondamentale per il benessere e la salute della popolazione. Una sua compromissione può influenzare la salute in modo diretto o indiretto. Può infatti favorire la circolazione di agenti patogeni e altri fattori biologici, come ad esempio i pollini e altri allergeni, che colpiscono, quando presenti, la popolazione suscettibile. Può però anche agire per mezzo di fattori non biologici, come la presenza di contaminanti chimici e fisici, l'inquinamento dell'aria, il rumore, i campi elettromagnetici, le sostanze chimiche pericolose. Di questi dati si è parlato nella sede dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente a Pescara. Nelle scuole sarà distribuito il materiale informativo affinché una giusta prevenzione ambientale diventi anche un motivo di raggiungimento di una migliore qualità della vita e quindi di una salubrità dell'esistenza. Il rapporto con l'acqua, il rapporto con l'aria, il rapporto con i principali fattori di inquinamento. Bisogna avere delle attitudini, delle abitudini corrette affinché un ambiente preservato sia anche motivo di una salute più diffusa. Sappiamo tutti che nei prossimi anni avremo delle grandi sfide, soprattutto nelle aree metropolitane, dagli insediamenti produttivi che possono, se non governati bene, generare ulteriori patologie per i cittadini. Ma anche la concentrazione metropolitana, la rumorosità, l'inquinamento atmosferico, l'incidentalità, lo smaltimento di rifiuti. Quindi queste problematiche si possono gestire bene solo se siamo formati e preparati e soprattutto se c'è una formazione sia di tipo ambientale che sanitario. Quindi sempre di più riportare l'ambiente nell'ambito della salute perché insomma dobbiamo avere un'unica visione integrata di questa problematica.